Hanno sempre fatto il loro compito, i bambini se non ci sono gli animali sembra quasi di non andare al circo, perciò ben ci siano gli animali al circo, specialmente per i bambini. Hanno trovato però delle alternative come ad esempio gli ologrammi, cioè proiettare gli animali tramite la tecnologia, senza usare quelli veri. Sì, però tecnologia invece la cosa concreta viene a toccare con mano, è sempre stata la migliore, gli animali è bello vederlo, toccare, accarezzarlo, non vederlo lì in una foto con luci belle, però invece puoi mettere a toccare un animale, cioè io che ho il cane quando me lo tocco, me lo accarezzo mi dà una soddisfazione, l'animale è questo, a me piace. Non crede che vada un incontro a sfruttamento in questo modo? A sfruttamento non penso, però il sfruttamento dipende dalle persone, tutto lì, ci sono quelli che sono così e altri no. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo, non mi piace lo sfruttamento degli animali. Quindi crede che la motivazione principale sia lo sfruttamento? Sì, poverini soffrono, per me stanno meglio in natura, direi. Sì, senz'altro. Per quale motivo? Per la sofferenza degli animali, per tenerli chiusi, continuare a trasportarli in gabbie, non mi sembra una cosa giusta. Sicuramente dice stanno meglio nell'abitato naturale. Esatto, stanno meglio a casa loro. Siete d'accordo con l'abolizione degli animali dal circo? Sì, perché comunque nel 2022 gli animali, è giusto che secondo me debbano stare in libertà e non nel circo, per il nostro piacere. È solo perché a noi piace vedere che fanno giochi costretti, obbligati e contro natura. Assolutamente sì. Per quale motivo? Perché è uno sfruttamento. Sfruttare gli animali per un piacere momentaneo, sciocco, è un uso strumentale.